Il Ministero dell'Interno valorizza l'attivazione del nuovo sportello anagrafo online del Comune di Agrigento, primo ente in Sicilia e terzo in Italia a fornire questo servizio, attivato nelle scorse settimane. Il servizio consente non solo di ottenere delle certificazioni direttamente sul proprio personal computer tramite una semplice registrazione iniziale da effettuarsi presso l'ufficio anagrafo e comunale, ma contribuisce ulteriormente al processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per le sue particolari caratteristiche, ribadisce a proposito il sindaco Marco Zamputo, questo servizio si presenta all'avanguardia nazionale, così i cittadini agrigentini non saranno più costretti a recarsi negli uffici comunali con i connessi problemi di ricerca di parcheggi e non saranno tenuti a fare, da volte in condizioni di disagio, lunghe e snervanti fila allo sportello. Bastano quindi una card, un computer e una stampante e in questo modo diventano un ricordo del passato le coda agli sportelli all'anagrafe.